benvenuti questo nuovo video chiamo iolanda da parte di figlio antonio iolanda si trova in un paesaggio astrale uno dei tanti paesaggi astrali che si chiama kamaloka metterò in descrizione che cos'è e insomma ho trovato una iolanda molto affaticata confusa e niente andiamo a vedere questa sessione andiamo a sentire questa sessione poi alla fine metterò due piccole canalizzazioni che sono state fatte una in una giornata la giornata venerdì giovedì sera e una venerdì oggi è sabato 25 sono le 8 meno 20 del mattino io le sette ho già fatto un rosario per lei perché ha bisogno di preghiere intanto comunque adesso andiamo a vedere la sessione a sentire la sessione di iolanda e viene accompagnata viene accompagnata da qualcuno qualcuno di non bello infatti in una porzione di sessione sentiamo la parola molto particolare che dice a iolanda viene fatta in due in due step questa sessione cioè spiego meglio un po la situazione questa sessione è stata fatta una volta sola che poi sono passato un'altra sessione iolanda non si trovava qui con me perché spesso e volentieri le portano da me le mie guide e il mio spirito guida e i ministri insomma li portano da me di fatti sentiamo ti sono a fianco ti sono vicino ti sono dietro ci sono davanti eccetera eccetera nella prima parte di sessione sentiamo una iolanda che non è qui con me che cosa succede 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 questo che quando io chiamo un qualcuno e non può venire per determinate questioni o perché si trova in un livello astrale molto particolare e dove in teoria non si può muovere si può muovere solo in alcuni casi e aspetti che poi in sessione andremo anche a vedere capire viene contattata telepaticamente o un ministro va da lei e se c'è la necessità di portarla qui la portano qui infatti la prima parte di sessione viene contattata telepaticamente in un'altra parte di sessione me la portano qui a casa mia per fargli capire determinate cose e fargli vedere determinate cose che ovviamente noi non possiamo vedere ma loro in metafonia lo dicono sempre qui ci sono le stelle qui ci sono i ministri e vabbè andiamo a vedere questa sessione così capiamo un po' tutta la situazione ma aspettate aspettatevi una sessione molto particolare iolanda poverina è riuscita anche nel suo momento secondo me peggiore quando l'ho contattata nell'aldilà è riuscita comunque a tirar fuori quella sua grande emozione il suo grande amore dicendo una cosa molto particolare al suo figlio e suo figlio chiedeva una domanda molto particolare dico subito non ti ha risposto perché la priorità sua secondo me è anche mia e soprattutto della mia carissima amica che comunque è andata a cercarla di cercare di portarla via prima di tutto di quel posto lì e fargli capire determinate cose adesso andremo a vedere la sessione e capiremo un po tante cose ok ok passiamo un'altra un altro contatto Antonio chiede di sua mamma Yolanda allora faccio così Yolanda ci sei e niente subito ci dice bere bere vuol dire che ha bisogno di messe e di preghiere dice sì il letto perché è uno dei suoi ultimi ricordi mi sta dicendo guarda che io ero nel letto e e qua dice è triste il lava cioè sono nei miei pensieri sono nelle mie cose che ho fatto in vita sto cercando di capire e poi poi come spiego nel sotto nel riquadro al video spiego che sta attraversando sia i momenti positivi della sua vita ma anche quelli negativi e che cosa succede? succede che sente le emozioni se queste emozioni sono più negative quindi ci sarà una sorta di tra virgolette negatività cioè quelle colpe quei pensieri e quelle cose fatti in vita le sente e quindi qui esce fuori questa sessione un po molto particolare molto strana molto anche confusa perché comunque quando ci si trova in un livello astrale non bello uno è come nella vita uno dice ma mi capitano tutte a me quando è che esco da questo momento di buio quando è che vedrò la luce ecco bene o male sta sta affrontando questa cosa e anche qui era blusa si sta riferendo al fatto che sta ancora come dico prima attraversando un momento molto particolare e qua dice il velo è sollevato cioè mi sono staccata dal corpo fisico cioè il velo anima si è staccata si è sollevata perché poi lei parla di letto cioè l'era nel letto è andata oltre è in questo posto dove sta vedendo un po la situazione fatta in vita e però il velo si è sollevata l'anima si è staccata e quindi adesso andiamo ancora avanti sopra là vedete che dice io mi sono staccata dal dal letto che per virgolette stavo male l'anima si è staccata e si è andata sopra sopra là sopra il suo corpo ok Yolanda ascolta Antonio vorrebbe chiedere se lo hai perdonato allora mi rivolgo ad Antonio non ho fatto tutta la domanda che tu volevi cioè anche per un po' una questione tua personale di privacy eccetera eccetera è un po' ristretto a questa domanda a queste domande ecco per aver nascosto la verità sulla tua malattia allora qui Antonio io ti capisco cioè so che quello che mi è iscritto ti capisco però a volte ci sono delle cose che devono andare così noi non possiamo farci niente come diciamo i fatti di cronaca che sono stati ultimamente nella scomparsa di una persona anche se sto parlando del di un femminicidio anche se in teoria doveva provare questa cosa questa ragazza anima perché magari in un in una vita precedente era lei il carnefici quindi anima deve scendere deve capire una cosa deve capire l'altra cosa poi se sbaglia si reincarna eccetera 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 mi fa un po' impressione in umanità che tutti quanti appostare a dare una spinta per carità a questa ragazza però nessuno si è degnato di dare un pensiero a tutte quelle bambini e donne nella striscia di casa che sono morte tutti quanti anche i giornalisti e sono un po' indignato dall'essere umano sono indignato dall'essere umano perché tutti quanti a postare messaggi meravigliosi verso questa questa ragazza per carità ci sta però quando viene fatto per caricarci e scaricarci di colpe che crediamo che non siano nostre ma sono nostre e poi soprattutto per far crescere il nostro ego postando una foto un pensiero per avere più like più cuoricini e più commenti per me è veramente una cosa assurda ognuno nella sua stanzetta si fa la bella preghierina per quella determinata anima eccetera come ho fatto io prima con Yolanda gli ho dedicato il rosario adesso lo dico qui ma spesso e volentieri io dedico il rosario a tutte le anime che comunque vengono in metafonia ma non è che lo dico cioè questo è un fatto mio è una cosa mia che voglio aiutare questa determinata anima senza fare sponsorizzazioni con post eccetera eccetera insomma video dirette o qualsiasi cosa insomma ogni tanto bisogna anche capire determinate cose che poi vabbè c'è anche da dire questa cosa mogliono donne tutti i giorni e nessuno gli importa una sega ma però questo caso chissà come mai per carità bisogna fermare questa questa andata ma secondo voi facendo un post salutando una determinata anima cambieranno le cose no se non siamo noi a cambiare se non siamo noi a scendere in piazza ho visto molte persone scendere in piazza per uno scodetto ma non per per motivi essenziali veri e reali soprattutto perché è una premier e donna vabbè chiudiamo qua questa questa mia questo mio pensiero che poi è condivisibile condivisibile o meno però ognuno beh la pensa come la vuole insomma ecco e qui ti risponde eccola qui che risponde Yolanda con cerca di prendere tutte le sue energie e dirti guarda sì ti amo la e come anche se è successo quello che è successo che mi è nascosto una determinata cosa io ti amo lo stesso e questa cosa è molto bella nel senso perché comunque lei è molto in difficoltà e ha la forza di dirti questa cosa qua dice a punte viole perché il suo corpo eterico cioè questa è una guida che mi dice che il suo corpo eterico non è ancora in condizioni buone perché comunque come ho già detto in passato quando una persona si ammala e poi passa nell'oltre ci vuole un po' che il corpo incomincia a rigenerarsi e a stare meglio e di fatti le mie guide mi dicono che ha le punte viola qua lei dice isola verde lei aspira a un piano astrale differente migliore perché comunque nel piano astrale dove c'è dove adesso ci dice anche una cosa più avanti lei aspira a un piano astrale differente e qua dice asilo sono qui Gesù luce adesso cioè più avanti vedremo perché dice Gesù luce lo vedremo nella canalizzazione della mia amica asilo sono qui non lo so se lei era una maestra d'asilo non lo so poi Antonio sarai tu a capire questa cosa comunque dico sempre riascoltate non la mia spiegazione ma la fine del video dove dura di meno ovviamente 3-4 minuti e vi ascoltate bene le parole e ognuno si trae le sue conclusioni perché io do una spiegazione così che mi viene a me però per voi può essere altro e qua ancora una volta che riesce a prendere le energie e dire ancora ancora una volta ti amo cioè questo dovete capire che in questa sessione questa cosa è molto difficile per lei dirlo e qui salta fuori proprio l'amore che c'è tra una mamma e un figlio è un amore incredibile perché lei si scarica da tutte le energie per cercare di parlare e dirti guarda figlio mio io ti amo veramente qua dice non so se inerente a a te ma comunque c'è qualcuno che danza e si chiama Alvi qua Demo mi chiamano mi chiamano mi chiamano Adamo Demo Muci insomma e qui dice Demo allora viene fatto e qua prevedono un po' il futuro prevedono il futuro che io non avrei lasciato Yolanda lì anche se per una determinata questione ho aspettato un attimo a chiedere l'aiuto alla mia amica perché comunque ha i suoi pensieri e quindi ho aspettato un attimo a chiederglielo però gentilmente lei è stata così carina insomma a contattarla subito appena glielo ho detto glielo ho detto il giovedì sera dopo mezz'ora mi ha detto come stava Yolanda ecco e Yolanda dice che segue il tuo nome e anche qui prevede un po' il futuro perché la mia amica gli dice guarda io sono andato a trovare Yolanda e ho fatto il tuo nome cioè mi dice dice la mia amica guarda io sono andato là e sono stato cioè gli ho detto che sei stato tu a mandare a mandarmi ad aiutarla e qui adesso è prima era nel piano astrale dove si trovava e qua dice e l'hanno portata da me e qua dice qua eh sì stelle e dice qua e sì stelle si meraviglia del fatto che qua ci sono le stelle ci sono i ministri ci sono le mie guide dove è nel suo piano astrale non è un piano astrale dove ci sono tante anime diciamo belle o come la sua è un piano astrale molto brutto particolare dove ci sono anime di basso livello anime che devono purtroppo crescere ma non ce la faranno a crescere perché sono in quello stato di cognizione intellettuale culturale dove comunque hanno fatto male in vita e faranno del male anche nell'aldilà perché adesso sentiamo questa cosa Yolanda cerca di dire una cosa e viene un'anima bassa dove praticamente secondo me la parola brutta è tormenta o almeno gli dà fastidio ecco forse è meglio dare fastidio perché sentiamo questa interazione molto particolare e qua dice Yolanda Antonio voleva dirti qualcosa e quest'entità di basso livello gli dice un attimo sta cretina cioè la insulta e sta cosa mi ha dato veramente un fastidio mamma mia va bene ok allora perché Antonio si sente in colpa e lo hai capito e lo perdoni per aver nascosto nel tuo momento peggiore di questa vita terrena grazie Yolanda Yolanda mi dice lì in attesa sono in questo piano astrale sono in attesa di capire determinate cose cosa ho fatto in vita cosa non ho fatto in vita e sono lì in attesa qui qui secondo me è un'altra un'altra entità dove metto il punto di domanda io sento la Juve non fate il pane non so quanto sia inerente a questa sessione o meno o magari un'altra è un'altra anima però non lo so magari fai il pane tu Antonio se il tifoso della Juventus io ho messo il punto di domanda perché non so io sento questo poi ognuno si tira fuori quello che si deve tirare fuori qua dice non sento sete non sento sete qua si sente ancora un po' quella quella sua umanità nel suo nel suo corpo eterico nel senso che non sento sete non ho bisogno di bere non sento la sete perché comunque ancora sta un po' capendo la situazione dove si trova perché è lì eccetera eccetera insomma ha un sacco ha un sacco da lavorare Yolanda purtroppo e qui ancora amore amore ma la malattia cioè capisci Antonio che cosa sta dicendo tua mamma insegna amore la malattia insegna qui ci deve far capire che anche una malattia ci deve insegnare qualcosa che sia brutta che sia bella ci sono le malattie che sono meno brutte nel senso magari raffreddore mal di gola però ogni malattia ogni qualcosa ci deve insegnare una determinata cosa dobbiamo tirare profitto anche sulle cose negative e sulle cose brutte perché se non tiriamo fuori delle cose belle in una cosa brutta non capiamo bene perché siamo qui e perché dobbiamo subire determinate cose difatti lei dice molto intelligentemente dice che comunque la malattia ci insegna ci insegna un qualcosa dice che purtroppo non ti vede cioè più avanti dice che comunque ti vede adesso ti dice che non ti vedo cioè io dove sto adesso non riesco a vederti solo in alcuni casi riesco a vederti ma poi andiamo avanti scopriamo un po' dice dice che lei canta non so se mi piaceva cantare intanto comunque dov'è lei canta e qua dice e due fa calzoni questa sinceramente non lo so dovresti vedere tu un po' riguarda dei calzoni qualcosa di questo genere e qui ancora questa anima disturbatrice che è venuta con lei che gli dà fastidio gli dice e fa l'attrice e fa l'attrice cioè non va bene questa cosa non va bene infatti la mia guida gli dice perché perché dici così cioè vuol dire lo stato attuale di questa anima è veramente basso e ti dice che odia gli addi purtroppo purtroppo secondo me quando se n'è andata non voleva darti un addio perché è brutto dare un addio a determinata persona e infatti qua dice odio gli addi allora iolanda volevo chiederti ho sentito sole quindi presumo che sei nella luce ma la domanda te la faccio lo stesso se non mi hai già risposto e qui ho sbagliato perché tante volte si sente una determinata cosa in sessione poi andiamo a riascoltare è è diverso sei nella luce stai bene ma io qui sono gnuco io faccio sempre a tutti la stessa domanda se sono nella luce che è quello che interessa a me ecco e dice che lei prima del trapasso nel suo finale praticamente di vita negli ultimi scorci di vita lei praticamente dormiva o almeno presumo che era in coma e poi dice attesa di poi cioè io nel finale della mia vita stavo dormendo o ero in coma e poi adesso sono in attesa e chiede non so se è una sorella dice sorella di fondi pace molto particolare come interazione o c'è un'anima che la chiama sorella qui in sessione e dici guarda diffondi la pace e qua dice e drammi la neve qua dice e drammi la neve questo è il suo piano astrale dove c'è la neve dove c'è buio dove c'è oscurità e dice e drammi sto provando dei drammi in questo piano astrale e c'è la neve già sei anni e mezzo fa o sette anni fa avevo trovato un'anima che mi parlava di questa neve allora poi io ho chiesto alla mia amica ma tu sei mai stata in un posto dove c'è la neve e lei mi dice sì e mi ha detto il nome del posto e lì ho imparato anche il nome di quel posto perché io loro mi dicono neve io dico neve sono tanti i piani astrali magari farò un video di tutti i piani astrali che ci sono nell'aldilà ma è molto cioè è molto difficile molto incasinato ricamo io ricamo faccio lavoro in ricamo e qua forse secondo me mi sta dicendo ricamo sta parlando del mio lavoro e mi dice che mi vede in questo caso Yolanda mi vede perché comunque sapeva già che la contattavo perché da quando voi chiedete è già successo da quando voi chiedete il contatto le mie guide si preparano a cercare in primis i vostri cari e alcuni li portano qualche giorno prima ma io non so quando registro registro quando ho tempo e allora fanno un via vai e magari in quel momento lei ha visto che io lavoro che di fatti io ricamo faccio ricavatore tessile eccetera eccetera e mi dice che vi vedo mi ha visto insieme a me e i miei datori di lavoro con sole con sole si va lì nel senso di giorno noi ci spostiamo ok e qua parla di un negozio non so se tu hai un negozio o lei gli piaceva andare in un negozio un negozio determinato è passata anche in questo negozio e qui ancora sta anima rompiscatole che cerca sempre di rompergli le scatole dice a te non ti ama invece non è vero perché ti ha detto varie volte che ti ama e vedete qui un'entità molto più bassa che rimane in quel livello lì cioè non non andrà avanti nel suo percorso gli piace rimanere lì come è già successo se avete visto il film La nostra dimora ci sono anime che potrebbero andare in alto ma invece non ci vanno gli piace rimanere nel buio nella palude nell'acqua dove piove eccetera eccetera perché stanno bene lì per andare a rompere le scatole le altre anime cioè sono i rompiscatole dell'aldilà erano rompiscatole in questa vita e rimangono rompiscatole se uno non cresce rimarrà così qua fanno il nome di Anna non so chi sia quest'Anna poi dicono che Cri è grassa non so chi è questa Cri se è una sorella una parente ma è sempre quest'anima qui che dice che non ti ama e poi dice che Cri è grassa non è Yolanda ok dai ti lascio ancora qualche minuto Yolanda se vuoi dire qualcosa liberamente a tuo figlio Antonio e qui Yolanda dice è venuta a casa mia l'hanno portata a casa mia e si rende conto che qua ci sono le stelle ci sono i ministri ci sono le guide dove nel suo piano non ci sono non li vede e qui ha paura ha paura di dire non aprite allora qui è questione di porte è un po' discorso un po' complicato comunque ci sono delle porte lei dice non aprite c'ha paura che entra qualcun altro ma però per fortuna non entrano altre diciamo anime negative infatti arriva un'anima e dice buonasera però è strano perché io ho registrato di giorno erano le otto e mezzo del mattino e dice buonasera e se ne va e dice buonasera a dopo e se l'ha andato è venuto a curiosare secondo me e qui Yolanda ci dice che soffre soffro un'altra anima gli dice a quest'anima che è arrivata che dice buonasera a dopo e quello bel saluto e vedete che ci sono interazioni captiamo interazioni anche di altri anime che sono lì che sono qui con me e lui risponde grazie Tina c'è questa che si chiama Tina non so chi sia se è una tua parente Antonio non lo so e qua si fanno fanno riferimento quel tipo lì da dove arriva ascoltate attenzione quello che comunque rompe le scatole a Yolanda neve il piano astrale della neve una mia guida dice sì conosco quel piano lì conosco il posto non va non va peso questa via allora e qua dicono chi è quel tipo lì faccio un po' risulto e arriva dalla neve da quel posto brutto è la mia guida conosco quel posto non va non va non va non va bene che lui è qua deve tornare là Yolanda dice che c'ha il peso che comunque sappiamo tutti ormai abbiamo capito che soffre e dicono uno qui qua c'è uno che arriva da quel posto lì e dice sono lì riposo sono lì Yolanda dice sono lì che sto riposando sto cercando di tirare fuori tutte le energie che ho e cercare di comprendere tutte le problematiche che ho fatto in vita in questo posto e questo una mia guida dice guarda che quello lì ti osserva Yolanda sta cosa non va bene ecco e questo questo è non so che tipo di interazione dice non ho pesce e dicono ostia non so non ho capito io sta interazione ho sentito qualcosa ma mudiamo un po' poi dopo nel post-produzione ti do ancora 30 secondi così potrai salutare Antonio e poi ci salutiamo cara Yolanda qua sentite proprio anche il timbro vocale della donna che dice zie San Pietro e qui San Pietro allora otto anni fa iniziando il mio percorso di metafonia la mia prima guida era proprio San Pietro San Pietro mi disse una cosa molto particolare mi disse mi chiamò Mucci Mucci tutti devono passare da me e qui dopo otto anni viene fuori che vedi zie San Pietro le tue zie sono molto probabilmente sono nella luce e sono passate da San Pietro poi magari racconterò un aneddoto molto particolare su San Pietro che è davvero che è successo a una ragazza comunque non lo racconto adesso perché il video sta già diventando abbastanza lungo quindi qui Michele allora Michele lo conosco io è il fratello di una persona ecco non dico amica però di una persona una conoscente che ritroveremo un suo messaggio in una sessione libera perché in quella mattinata ho fatto due contatti e più una sessione libera dove le ho lasciati parlare che è quello che mi piace di più per carità mi piace anche fare metafonie con i vostri cari ma la cosa che mi piace di più è accendere la radio e lasciarli parlare e fargli dire quello che vogliono qua vedete Michele Giandan manda un messaggino dice che Michele sta su sta nella luce e poi dopo Pietro e Pietro e San Pietro insomma gira con un con un santo molto elevato e San Pietro ha le chiavi del paradiso ecco non so se se mi faccio capire quando può e l'ava quando può allora ci sono dei peccatucci che San Pietro perdona e l'ava quando può altri peccati non le fa passare purtroppo peccati ma Marachelle eccetera eccetera e anche qui Michele mi sta dando un messaggio molto particolare che poi sentiremo più avanti su determinate persone che hanno hanno sbagliato hanno creato odio hanno creato sentimenti negativi vabbè comunque spiegherò meglio su sull'altro video che mi dicono anche una cosa molto particolare vabbè comunque e porta qui Michele mi sta dicendo che San Pietro porta qui le anime San Pietro un ministro una guida insomma porta le anime ok grazie 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 allora qui aspetta un attimo che vado al mio faccione che mi sono dimenticato di aprire un secondo eh sono dimenticato di aprire la canalizzazione dalla mia amica ok una sono due file secondo eh due boom va bene allora torniamo a schermo intero eccola qui apriva eh allora io ho chiesto avevo chiesto la mia amica se conosceva un piano astrale con la neve mi dice si esiste si chiama esiste si chiama Kamaloka in sanscrito come si chiama quest'anima io ho detto guarda io c'ho un'anima in difficoltà quest'anima che prova a vedere erano le nove e un quarto di sera eh di giovedì sera sempre se vuoi caspita se vuoi era quello che volevo beh insomma nel franzo tempo faccio un controllo che mi ha chiesto che mi ha chiesto il mio amico insomma lei lavora con un altro suo amico che aiutano persone vive tirano via determinate anime alieni eccetera eccetera beh insomma io gli chiedo ma è brutto sto posto un'anima che dice di essere lì appena ed è venuta accompagnata con un'altra anima che si chiama che la chiama cretina insomma mi sa che lì c'è qualcosa che non quadra aspetta trovo il nome metto Yolanda si chiama così sì e lei sì non è molto bello ora provo a cercare Yolanda e io ho detto aiutala se puoi e lei certo beh diciamo che è la nostra missione cercare beh soprattutto la sua che lei ha mediatinità infinita io faccio quello che posso insomma allora subito eccomi qua sono andato a cercare Yolanda e come ho detto prima il luogo non è bello molto buio è pesante perché infatti non si trovano anime elevate lì e infatti abbiamo sentito che era accompagnata da un'anima non elevata comunque ho chiesto a Gesù e adesso vi ricordate che parla di Gesù e canalizzazione metafonia si fondono ancora una volta questa è una certezza quasi assoluta al 200% se potevo portarla via di lì e insomma anche lei guida Gesù io le mie guide e ogni tanto viene anche Gesù e non solo in una sessione vedremo che arriva Gesù arriva Ima arrivano tantissime anni insomma e mi è stato concesso è stato concesso di portarla via da quel brutto posto infatti ora è un posto più su in un luogo più tranquillo e sta riposando era molto stanca infatti io l'ho sentita che comunque era stanca confusa eccetera eccetera domani la ricontatterò e ti farò sapere come sta e se per caso mi danno il permesso di cambiare ancora il luogo intanto gli ho detto che mi hai mandato tu infatti quando lei dice seguo il tuo nome è anche qui la metafonia che si fonde con la canalizzazione cioè roba veramente incredibile vabbè mi scrive ieri sera che era venerdì scusa dammi ho controllato Yolanda e dove l'ho portata ieri sera purtroppo non posso ancora spostarla ho chiesto anche a Gesù ma per ora deve rimanere lì purtroppo ci sono leggi scritte non scritte che comunque orco ho sbagliato che ci sono leggi scritte e dobbiamo stare a queste leggi scritte e non si può portare l'anima dove vogliamo noi noi vorremmo che fosse nella luce tutte ma ognuno deve fare il suo percorso Yolanda deve fare il suo comunque sta meglio non è più spaventata come come lo era prima e infatti io avevo sentito che comunque era spaventata stanca eccetera eccetera penso che ha bisogno di esaminare un po' la sua vita comunque noi cioè tu e io di certo non l'abbandoneremo e quando sarà pronta gli daremo una mano ad andare avanti sempre col permesso di papà Dio ovviamente sempre 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 col permesso di papà Dio bisogna fare le cose non non bisogna essere arrangiarsi a dire io faccio metafonia e via buonanotte oppure faccio pendolini carte buonanotte bisogna avere sempre 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 il permesso se non abbiamo il permesso di addio poi dopo ci ritroveremo nell'aldilà in piani oscuri e pagheremo conseguenze che credevamo che facevamo una cosa giusta per carità c'è gente che fa contatti di metafonia porta messaggi alle persone ma poi alla fine se tu non hai il permesso il tuo lavoro non serve a niente e niente Yolanda in questo posto sta meglio deve lavorare ancora un po' perché secondo me sta sullo sbalzo dallo stacco dal suo corpo materiale per andare nell'aldilà deve ancora capire determinate cose che ha fatto che non ha fatto capire anche dov'è adesso in questo luogo riposa e sarà più serena e tranquilla io intanto come ho detto ho fatto già delle preghiere stamattina ho fatto il rosario stasera ne farò un altro domani un altro ancora insomma bisogna più siamo a rompere le scatole ai santi ai ministri a Gesù a Papà Dio e più facciamo un press la manderemo il prima possibile su in alto se qualcuno vuole fare qualche messa in suffragio ben venga anzi è sempre cosa gradita poi Papà Dio sa chi aiuta determinate anime chi no e niente sono stato abbastanza lungo anche in questo video non riesco a fare video più corti mi dispiace e comunque questo video andava fatto un po' abbastanza lungo perché comunque c'erano cose da spiegare quindi niente al prossimo video e pace amore a tutti voi insomma via ok passiamo un'altra un altro contatto Antonio chiede di sua mamma Yolanda allora faccio così Yolanda ci sei? ok Yolanda ascolta Antonio vorrebbe chiedere se lo hai perdonato per aver nascosto la verità sulla tua malattia ok allora perché che Antonio si sente in colpa e lo hai capito e lo perdoni per aver nascosto nel tuo momento peggiore di questa vita terrena? Grazie, Yolanda. Grazie. Allora, Yolanda, volevo chiederti... ho sentito sole, quindi presumo che sei nella luce, ma la domanda te la faccio lo stesso se non mi hai già risposto. Sei nella luce, stai bene? Ok, dai, ti lascio ancora qualche minuto, Yolanda, se vuoi dire qualcosa liberamente a tuo figlio Antonio. Ok, ho sentito qualcosa, ma mudiamo un po', poi dopo, nel post-produzione, dai, ti do ancora 30 secondi, così potrai salutare Antonio e poi ci salutiamo, cara Yolanda. Ok, grazie, grazie, grazie. Finite le sessioni, vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.